Jessica Poleselli, insegnante di danza per l'Independence Studio Imola, allora che bilancio possiamo tessere di questo 2016, iscrizioni, come sta andando? Allora sta andando benissimo, come potranno dirvi anche le mie due aiutanti Letizia e Noemi, abbiamo aperto da tre anni questa scuola quindi è una cosa nuova, siamo usciti con un nuovo progetto e stiamo andando alla grande, siamo partiti che eravamo 40 ragazzi e quest'anno siamo 95 quindi siamo felicissimi, abbiamo fatto gare l'anno scorso perché quest'anno si devono ancora svolgere, abbiamo vinto varie coppe, siamo arrivati a seconda dei campionati mondiali con i ragazzi grandi appunto, quindi siamo molto felici e orgogliose del nostro gruppo che sta diventando comunque un team abbastanza numeroso Bene, e ci sono più ragazze o ragazzi? Allora diciamo che ci sono anche dei maschietti perché abbiamo ben tra maschietti di varie età, uno di 18, uno di 13 e uno di 8 quindi abbiamo un po' di tutte le età, diciamo che il gruppo più numeroso all'interno della scuola sono comunque i bimbi un po' più piccoli mentre per quanto riguarda i grandi abbiamo un gruppo di 10 ragazzi che comunque sono quelli che portiamo insomma ai campionati mondiali e che comunque ci stanno inorgogliendo parecchio perché vingono parecchie coppe eccetera, quindi siamo molto contenti Loro sono appunto le, scusami, sono le mie aiutanti, sono ragazze che hanno comunque lavorato con me, sono crescite con me già da tanti anni e quindi mi aiutano molto con i ragazzi piccoli, sono molto contenta e sono molto orgogliosa anche di loro perché stanno facendo un lavoro bellissimo con i bimbi Prospettive per il 2017, cosa vi aspettate di crescere e di avere sempre queste soddisfazioni? Ma sì, cioè sicuramente vogliamo continuare a ballare, a metterci il nostro impegno e poi niente, speriamo in bene comunque niente, penso anche per lei No, penso anche io la stessa cosa, alla fine stiamo facendo un gran lavoro e secondo me andremo sempre meglio Io volevo ringraziare la nostra insegnante che comunque si fa un mazzo così per fare tutto quindi sono molto felice e niente adesso se la possiamo fare basta